Sì. Pronto? Sì. Scusi, pronto? Sì, mi dica. Sì, sentire, in Corso del Sardegna stanno disfando tutto, non è possibile che ci mandino qualche camionetto della polizia. Sì, ci sono, ci sono, sono lì dietro. Eh, ma in Corso del Sardegna non c'è nessuno, hanno disfatto credito italiano. Mi ha chiamato una signora due secondi fa e mi ha detto, mi ha chiesto scusa perché prima mi ha trattato male perché non c'è la polizia, poi ha detto ecco, è arrivata, quindi vuol dire che è disimposto. Non ho capito, mi scusi. La polizia è lì sul posto, mi stavo detto da una signora genovese, quindi è andata di fatto. È arrivata, anche se non è arrivata comunque sta lì dietro, cioè sta nei paraggi. Allora, è già in Corso Sardegna la polizia? Oh, in Corso Sardegna, o nelle vicinanze sta lì sul posto. Ho capito. Buonasera.